come è il mio pollice? chiede a Victor tu è esperto di pollici oh, io voglio anche andare a tutti io voglio andare in Istanbul devo decidere Victor, tu che dici che dobbiamo andare a lavorare vieni a Istanbul con noi cosa ci paga un po' tutto Victor Spottli distanziere mich von meine aussage io ho sentito i tuoi i tuoi un po' bello grazie molto, molto, molto ho apprezzato tu è venuto a Istanbul c'è qualcuno che è venuto a Istanbul? Victor Poi potresti 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 un nome bello no no Victor potresti 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 non 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 era un 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 person from the hotel and they asked us if the room is okay and it's okay if we are happy how she cleaned the room graziele here are Germans and Germans and I was like of course it was every time blah 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 but we are Italian we're not German so chill out I will kink I will kink now I go outside and they scream mojito sangria mojito sangria and I scream masahi masahi sexy banana yesterday someone called me Nikki Minaj I'm Shakira because I have a big Nicky Minaj they called Sarah Nicky Minaj yes yes in Spain and I'm Shakira I will mix it too much I need to make a bit of rest a Milano si che veniamo a Milano vengo subito non c'è assolutamente problema anzi prossimo miaggio a Milano ok a vikingo scrivimi immediatamente se no ospite mie per andare a Tokyo Marti uno c'è ospite a Tokyo stai scherzando chi è no I send you train no Milano intende intende a Milano ma Milano vado a vigevano dai Milano dai su now I send you train you're a good boy Evel King you're a good boy guardate il sorrisetto di Marti of course we want it what do you ask don't ask just send thank you so much thank you so much thank you so much thank you so much Victor prendi esempio Sara sexy manana Martina e su man they call they really in Ibiza was also like it they are like sexy banana sexy banana and they sell I think it's sportless jewelry and sunglasses oh Victor mamma mia mamma mia Victor tinteli martini mi bagni i capelli con le che ho ma mi i capelli li rinsucchiano alla grande a me se no a me poco perchè se no me li me li se poco me li perchè ci vedo talmente sottili intende se è spagnolo? of course io sto nella Spagna nella Parma di Mallorca Marti ho un po' di fame o spendacione o spendacione vogliono il tapa? eh o il sushi nel andiamo nel ristorante rosa si c'ha evil king we need money dai raga dateci qualcosa che questa vuole mania io 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 sei Ivan e vengo dalla pagna io sei Martina e vengo dell'Italia ok dai andiamo posso mettere la borsa chiara o la vuoi te? tanto a me non mi interessa la voglio io tanto sono figa allo stesso dai su non facciamo qua questo si questo no porta loro con noi mettiamo la borsa nera e chi se ne frega dammi subito la carica di mio telefono che non ce l'ho per piacere beautiful sister do una morza alla mela se no mangio un pomodoro eh mangi i pomodori così li finiamo ragazzi guarda cosa ho assaggiamo i pomodorini spagnoli naturalmente li abbiamo già lavati Marti guarda Insta vado subito a vedere tesoro vediamo un po' che mi aspetta ah ma sei tu bravo così ti voglio così ti voglio voglio vedete vedere ma in costume tiktok sportlich allora devo mettere questa col cocktail tiktok sportlich mmm vabbè saranno delle sorprese eh no come ti chiami? Davide? andiamo che Davide? Davies Milano ma ci incontriamo se no prendiamo un litro di Aperol ma Aghislov cos'ha? Aghislov are you here? Aghislov Aghislov è un porcone come mi ha scritto? mi ha scritto your outfit it's beautifulissimo and dangerissimo non mi credi a me perché? perché non mi credi? guarda che faccia che ho come fai a non credermi con sta faccia? scusami guarda che faccio da tiktok sportlich eh? io sono spagnolo hola mmm eh le persone spagnoli me gustano molto me comprendo molto bene con lo spagnolo dame la carica dame la carica